decollo di alassio monte pisciavino decollo molto pulito mandirine ci sono il vento è giusto la vela è giusta vediamo se riesco a decollare appena arriva una bava d'aria proviamo pare che ci sia troppo a sinistra vediamo tirare la sola francese allora però si è riposizionata è un po storto sto vento vediamo se riesco a farla salire così ok ecco che arriva la bolla addirittura sembra che si stia storgendo di qua allora è poco per partire alla francese e troppo per partire all'italiana che non si stia in l'alpa non è proprio il cinema non è proprio il cinema non ci si stia in strano allora dovrei stare in strano vedere o non è diverso non è diverso il vento è un pochino storto da ponente manteniamo la cresta comando girato recuperare la radio che mi è scivolata sotto eccola qui questa è la termica che girava Marco prima non è neanche la termica eccola faccio ecco la Marco sta perrando i 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 420 metri ecco l'atterraggio è qua davanti a me spiaggia centrale via lascia e la spiaggia è molto lunga per cui si può atterrare ovunque adriano 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 ad aldo sono in volo ad alassio se mi senti poi ci risentiamo ciao chiamare chiamare l'ho chiamato ok io sono in volo sono a 300 metri sul mare sto andando in spiaggia a condizioni perfette se venivi volavi bene anche te no condizioni perfette se venivi volavi bene anche te più o meno dai 80 chilometri in linea d'aria adesso in tutto il mare prendo il tiro e faccio la panoramica della costa ho 250 metri sul mare in questo momento l'ho avviato a sinistra ok eccola sul decollo mi ripunto il mare questo è la spiaggia dove devo atterrare oltre la torre un po' così e poi adesso miro a destra in direzione dell'atterraggio un po' così 135 metri sa che arriverò un po' corto con la torre Grazie a tutti. 60 metri, 10 metri, 20 metri. Atterriamo dall'esraio un po' più avanti. E che è questo buco qua? Ciao! E voilà! C'è anche le scalette per salire, è molto comodo. Allora... Allora... Questa è la prima volta che atterro in questa spiaggia di Alassio. Sempre atterrato prima. Allora... Ecco Sigi! Se vuoi un passaggio io voglio con Arti che ti dico un passaggio. Andiamo su! Andiamo su! Andiamo su e facciamo un'altra! Allora... Vieni a darmi una mano a chiudere! Vai tranquillo! Ma... E certo vado vado! Digli che... Ma aspetti che vado! Evito di salire col motorino! Evito di salire col motorino! Allora... Generale... Qui c'è un'altra... E adesso... Qui c'è un'altra... Il metroso di gru...